E anche quest'anno sta per partire la nuova edizione del Festival del Garda. Un insieme di serate di intrattenimento a 360 gradi che faranno divertire tutto il pubblico presente. Si susseguiranno sul palco momenti dedicati alla musica con i concorsi canori per la sezione Inediti e la sezione Interpreti, dei quali il direttore maestro Vince Tempera ne sarà il direttore musicale. Ma il Festival del Garda non sarà soltanto musica e bellezza, ci sarà anche da divertirci con i nostri comici, ci saranno anche momenti dedicati al ballo e per ulteriori informazioni potete visitare il sito www.ilfestivaldelgarda.it Quest'anno per vedere le migliori immagini del Festival del Garda cliccate su www.veronareport.it Vi aspettiamo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!